L'azione che è amministrativa io la immaginavo sicuramente un pochino più leggera, io dedico molto tempo, lo sanno chi mi è vicino, dedico molto tempo al proprio di lavoro, quasi 12 ore al giorno costante e forse ce ne vorrebbero ancora di più, però sono soddisfatto perché ho trovato una collaborazione in tutti i settori importante e questo si è tradotto sicuramente nei benefici di tutto quello che ci siamo intestati e come sta andando avanti. Io sono molto ma molto soddisfatto dell'andamento che abbiamo avuto a tutt'oggi, il nostro programma è stato portato avanti, facevamo molto affidamento ai finanziamenti che c'erano durante questi tre anni e diciamo che siamo in linea con quello che avevamo preventivato. Avevamo un obiettivo più importante di tutti che era quello dell'ampliamento del cimiterio che ci ha impegnato nella prima parte sicuramente della nostra amministrazione. Poi con l'andare dal tempo ci siamo chiaramente, era questo il mio obiettivo dalla mia amministrazione, era catapultarci anche sui finanziamenti del PNRR. Ci siamo riusciti, qua ho tutta una serie di elenco di opere già fatte e proprio in questi giorni ne abbiamo appaltate cinque, da ieri a oggi abbiamo appaltato cinque lavori. Quindi diciamo che siamo sulla frequenza di quello che ci eravamo prefessati. Quindi avete rispettato la tabella di marcio? Sì, secondo me sì, secondo l'amministrazione ci siamo date delle tappe e queste tappe dobbiamo dire hanno avuto dei rallentamenti e si vedono anche sul territorio perché chiaramente gli eventi che sono accaduti nel febbraio del 2023 ci hanno condizionato per un paio di mesi perché ci sono avuti dei danni molto ma molto pesanti. Non tralasciamo proprio niente, è chiaro che il nostro punto di forza vuole essere, vuole essere i lavori pubblici. Noi vogliamo eseguire lavori pubblici e vogliamo creare tante altre cose positive per la nostra città. Siccome abbiamo un mario di finanziamenti non ne vogliamo perdere neppure uno. Questo è quello che voglio io da sindaco e questo è quello che si sono sposati l'amministrazione. Abbiamo una grossa fortuna. Lo ripeto e anzi ne approfitto per ringraziarle tutti gli uffici perché ci stanno dando una grossa collaborazione e grazie a loro stiamo riuscendo anche in tempi celeri a fare sì che questo programma diventi realtà. Questo è quello che è sotto gli occhi di tutti e poi con i numeri si vedrà se stiamo barando o se stiamo dicendo delle cose che sicuramente sono positive per il nostro territorio. La nostra visione è chiarissima. Noi abbiamo un percorso, lo faremo, l'ho detto anche in altri appuntamenti. Alla fine dei cinque anni guardi noi io non voglio né patentino né sedia da custodire nel tempo. La gente come ha fatto la prima volta deciderà la seconda volta. Se noi diamo risultati ci premia. Se non ci diamo risultati largo ai giovani prendete in mano le retine dei cicli e portatela avanti. Io sono convinto che noi stiamo andando no bene ancora di più. Ecco più il tempo passerà più andremo bene. In una scala di valori che voto vi date a 12 mesi dall'insediamento? Ancora c'è parecchio da fare certamente bisogna dirlo. Io non voglio sopravvalutare l'impegno dell'amministrazione oltre 7.